salve siete sul canale pratiche sartoreale alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana oggi mi presento davanti a voi vestito in modo completamente nuovo per me indosso il pantalone modello numero 1 della rubrica dedicata ai pantaloni vedete quanto è comodo è leggermente largo ma non troppo abbiamo ricevuto tanti i vostri commenti e domandi c'erano tanti dubbi proprio per quanto riguarda la larghezza e anche per il punto del cavallo la gente ci si aspettava che il cavallo sarebbe stato troppo basso ma se vi ricordate abbiamo abbassato solo di 10 12 mm per diventare un pantalone con il cavallo basso si deve abbassare di più diciamo circa 10 centimetri solo ad allora diventa un pantalone con cavallo basso ma col tipo di pantalone già fuori moda io non ho intenzione di fare la modellistica di un pantalone con cavallo basso nel nostro caso quel centimetro centimetro e mezzo ci garantisce solo più comodità vedete come mi stanno non sono aderenti e sono comodi metto le mani nelle tasche come vedete non tira da nessuna parte e non c'è nessuna tensione sono molto comodi ecco il dietro vedete c'è libertà ma non è largo e con questo vorrei dire che sono molto soddisfatta di questo pantalone mi sento benissimo e continueremo con la rubrica dedicata ai pantaloni soprattutto dopo che uscirà il corso pantalone da voi oltre al pantalone oggi indosso una camicetta che fa parte dei cappi moderni fatti con metodi semplici non so se vi ricordate l'abbiamo fatta insieme questa modellistica cosa voglio dirvi ho fatto il cartamodello della camicetta ho tagliato il tessuto e abbiamo fatto il video così i nostri follower potevano già iniziare a fare la camicia senza aspettare la seconda parte avevo fatto una manica fino al gomito ed era un errore era un errore perché prima io non porto camicia o bluse con una manica di questa lunghezza soprattutto d'estate e secondo chi è chi è che porta maniche di questa lunghezza poche persone forse quindi come fare misurate una lunghezza indicativa anche se vi sembra lungo misurate la circonferenza in quel punto e poi fate la manica larga quando arriva il momento della prova decidete se volete manica più lunga lasciate così siano tagliate come ho fatto io io ho tagliato io ho pure fatto il risvolto poi ho fatto anche un taschino e il monto separato e come vedete il risultato è i due capi molto comodi e contemporanei fatti in modo semplice certo lo stile come le chiamo io stile città passeggiata non sono dei capi per un appuntamento di lavoro oppure per occasioni speciali sono semplicemente un pantalone una camicia di cotone ma sono capi indispensabili per ogni guardaroba è impossibile rimanere senza capi di questo genere ognuno deve averli certo potete sempre mettere una tesserta e un paio di jeans ma una camicetta e un pantalone danno un'altra immagine anche io uso i t-shirt sono molto comodi e ogni anno mi faccio un paio ma preferisco le camicette vedete come faccio se ho le tasche tengo le mani dentro e mi sento super comoda è molto comodo anche il punto del cavallo mi siedo mi alzo non tirate nessuna parte anche nella zona delle ginocchia sento il pantalone benissimo e vi dico un'altra cosa anche se avessimo aggiunto due centimetri ai fianchi e non un centimetro noi abbiamo aggiunto uno alla base ma anche aggiungendo due centimetri sarebbe stato perfetto dipende il risultato che vogliamo ottenere e certo dobbiamo dare la giusta importanza anche agli accessori in questo caso la cintura ultimamente le cinture di pelle non sono molto di moda ma nel caso mio una cintura non troppo alto devo comprare un'altra non è questo il punto il punto è che la presenza della cintura è un'altra immagine e il tutto insieme oltre che tiene i pantaloni dà l'idea di una cosa raccolta e ordinata per fortuna io per la struttura e la mia figura ho sempre usato le cinture e adesso sono molto felice che sono alla moda come ho detto il pantalone è super comodo e avremo altri video dedicati ad altri modelli di pantaloni assolutamente mi piacciono troppo non penso di farvi vedere il pantalone e la camicia sul tavolo perché non c'è nulla di particolare sono cuciti in modo semplicissimo non esistono cuciture particolari bordature o altro il tessuto è molto facile da lavorare tutto è rifinito con la tale a cuci solo il cinturino è fatto con la bordatura anche la camicetta all'interno è fatta completamente con tale a cuci e con semplicissime cuciture a macchina e penso che continueremo a fare altri modelli con metodi semplici mi sento molto bene in questa camicia e con questo pantalone la mia circonferenza vita è di 93 centimetri e il pantalone leggermente largo e di grande importanza è anche il risvolto tutto insieme fa sì che la mia circonferenza sembri meno il risvolto leggermente più stretto la cintura la giusta lunghezza le spalle leggermente abbassate il colletto fatto in questo modo la botonatura il taschino ogni dettaglio è al suo opposto ed eccomi qua non serve investire troppi soldi per capi di cotone e possiamo fare tutto con le nostre mani come vedete esistono cotoni di vari pesi fantasie tipologie e non dimentichiamo anche che per questo tipo di capi vanno bene anche i tessuti di lino sono molto felice che oggi vi ho fatto vedere questi due capi il pantalone modello 1 la camicetta fatta con un metodo semplice sono due capi in un solo look continueremo con altri modelli di pantaloni e penso che questa estate saremo molto a passo con le tendenze non vi rimane altro che aspettare il nostro corso che siamo in fase di elaborazione speriamo che arrivi il prima possibile quindi aspettate e insieme a noi create questi look bellissimi che vi possono cambiare l'immagine assoluto mettete like condividete i nostri video iscrivetevi al nostro canale e seguiteci e perché no acquistate i nostri corsi che insegnano non poco con questo oggi io vi saluto con voi sono stati paus tirina michailovna e tutto il nostro team alla prossima con tante altre novità e soprattutto a presto con un altro modello di pantaloni che a me piace tantissimo aspettate sempre le recensioni dei capi che vi faccio vedere perché danno molto e fanno capire tanto il risultato finale buona serata a tutti e alla prossima ciao